Non solo le banche italiane non concedono più mutui alle famiglie, ma se lo fanno impongono di pagare anche una tassa sulla rata mensile. È una delle graziose novità che molti di voi potrebbero trovare nell'estratto conto annuale del 2012, in arrivo in questi giorni nelle caselle postali o elettroniche degli italiani. È una piccola cifra attorno ai 2 euro mensili, ma comunque emblematica, simbolizza l'aumento dei costi per chi ha un conto corrente bancario. Questo è solo un piccolo esempio degli aumenti che attendono al barco i correntisti. Dal canone della carta di credito e del bancomat al pagamento delle bollette è salito tutto. Le commissioni bancarie, rispetto all'anno scorso, sono cresciute del 35%, passando dai 159 euro del 2011 ai 217 euro del 2012, 12 volte più velocemente dell'inflazione. Un'impennata, un salasso, vediamo altre voci. La domiciliazione della bolletta telefonica costa ormai 2,5 euro, pagare l'IMU 3 euro. Insomma, il conto corrente bancario tradizionale sta diventando un prodotto costoso. Meglio scegliere qualcosa di più mirato per le proprie esigenze, spiegano gli esperti della Bocconi. Ad esempio, se in una banca abbiamo solo il mutuo, è caso di avere un conto a zero spese e zero servizi. Se andiamo di rado allo sporteglio, meglio scegliere un conto online, cioè su internet. Se in generale facciamo poche operazioni, allora un conto con poche funzioni, ma a costi più bassi, può fare per noi.